Alcuni insegnanti stanno sperimentando quella che si chiama classe capovolta, cioè Flipped Classroom. Sono tutte modalità che, partendo da un'attivazione degli studenti, quindi non il docente che spiega, ma la conoscenza che viene attivata attraverso gli studenti che lavorano sul libro di testo, che la sperimentano attivamente, cioè fanno esperienze concrete in classe, il docente ha un ruolo più di facilitatore e di sistematizzatore dei contenuti. Questa è la differenza, questo è il nostro impariamo diversamente.